Violetta, l'evento! Un appuntamento esclusivo da non perdere! E voi ci sarete? Potrete cantare! Ballare! E vedere in anteprima assoluta il primo episodio della nuova stagione di Violetta! Non potete mancare? Violetta, l'evento! For the Lovers Only! Il 18 e 19 maggio, al cinema! Il 18 e 19 maggio, al cinema!